Benvenuti a Radio Design, io sono Simone Pucchi e come sempre sono qui con i miei amichetti del Bosco Fatati Magici, Eleonora Bagliocco e Giacomo Rossiello e l'immancabile zio Nicola da Cagliari a io un po' scafista oggi. E siamo qui ovviamente per una nuova delirante puntata di DT Jam, l'unico podcast al mondo, ma che dico mondo, universo, che vi svela tutti i più profondi e imperscrutabili segreti del mondo delle copertine degli album più famosi di sempre e non solo ovviamente. Oggi ci discostiamo un po' da quello che è il solito, perché parliamo di una copertina di un gruppo che forse non tutti conoscono. Diciamo che l'altra volta abbiamo parlato di gruppi iper, 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 famosi, iconici, che se non li conoscevate, in persona vi prendeva sparrancate sui denti. Invece oggi parliamo forse di un gruppo che se non lo conoscete al massimo vi dà uno schiaffo, una cosa un po' più leggera. Grazie. Grazie a tutti. La tranquillità, la pace, la calma, la bellezza. Ma lascio la parola subito a De Leonora, anzi a Giacomo oggi, perché abbiamo sabicciato, che vi parla del gruppo. Parliamo allora di The Rage of the Machine, che sono stati un gruppo musicale rap metal americano formatosi nel 91 a Los Angeles, dal chitarrista Tom Morello e dal cantante Zach della Rocia. Il gruppo rimane in attività fino agli anni 2000 per poi riformarsi dal 2007 al 2011. I RATM, per gli amici napoletani, sono super famous per aver frullato insieme, come pochi sanno fare, i pop, rock, funk e alternativi. Sono quindi considerati i maggiori esponenti del rap metal e del rap core, nonché coloro che hanno influenzato il nu metal. Roba seria comunque. Nu metal, sembra tipo una medicina. Nu metal. Nu metal. La band è composta da già citato Zach D'Aroca, cantante e compositore dei brani, Tom Morello, chitarrista, Tim Comerford al basso e Brand Wilk al batteria. Nel corso della loro carriera si sono queste bestioline agitate, si sono separate numerevoli volte. La prima nel 2000, dopo l'uscita di Zach, lo zio Tom, Tim e Brand insieme a Chris Cornell formarono gli Audioslave, fino al 2007, quando anche Chris se l'andò via. Un bordello, proprio un bordello, non te sa. Casino. Alla fine però hanno trovato pace nel lontano 2016, quando Tom, Tim e Brand insieme a Chuck D, DJ Lord dei Public Enemy e Be Real dei Cypress Hill, formarono tutti insieme i Prophet of Rage. Trasciando tutti questi giri in pillici di formazioni, i Rage hanno fatto la storia, si sono distinti a impegno politico per le battaglie contro le minoranze etniche e contro il capitalismo e la globalizzazione. Tutti i temi che Grande Zach metteva in evidenza i testi delle loro canzoni. Hanno interpretato la musica come un vero e proprio mezzo di comunicazione e noi vogliamo veramente bene a loro per quello che hanno fatto. Hanno fatto anche molto per i social, infatti anche i numeri non mentono, avendo venduto più di 6 milioni di dischi nel corso della loro carriera. Ma adesso parliamo più nello specifico dell'album. Infatti, quindi l'album di cui abbiamo deciso di parlarvi oggi è uno dei loro massimi capolavori, anche se diciamo che massimi capolavori sembra chissà quanti album abbiano mai fatto, hanno fatti quattro. Basta. Pochi ma buoni ovviamente. Siamo passati dai Beatles l'altra volta che hanno fatti, non lo so, 20 penso, tantissimi, troppi. Ma gli Scarafoni si riproducono velocemente, quindi anche loro non si può sfornare con gli album. Comunque l'album di cui vi parliamo oggi è Trantantan Rage Against the Machine. Oggi vogliamo alto perché abbiamo la versione in vinile, gentilmente fornita dalla Baiocco Records. Che ovviamente non si vedrà mai, però. Non si vedrà mai, però. Conta al pensiero. Esatto. Ok, questo bellissimo e meraviglioso album, che per chi è che ci segue in diretta, venne pubblicato il 3 novembre del 1992 dalla nostra cara e amichevole Epic Records. Quindi oggi facciamo veramente numeri, siamo passati dal 60 al 60. Falla finita. Per favore torniamo seri. Allora, l'album in sé, come abbiamo accennato prima, è considerato una pietra miliare di due generi, cioè il nu metal e il rap metal. Veramente, come ho detto prima, è proprio bomba totale. Mentre a livello artistico questo stupendo album rappresenta quella che era la super mega energia, la rabbia e tutto ciò che c'era al mondo dei nostri quattro amichetti di Los Angeles, che traspare immediatamente dalla prima traccia, che manca a farla a caso, si chiama Bomb Track, proprio boom. Diciamo che è un album veramente ottimo da ascoltare quando si è particolarmente incazzato e si vuole uccidere qualcuno, ma anche per dormire è molto ottimo. È molto ottimo. È molto ottimo, si fa dormire perché... Perché allora riscrivi la lingua italiana. Ovvio. Punta da uno. No, puntata quattro. Quindi, quest'album appunto si caratterizza, come è appunto abbastanza evidente dal titolo, quindi Rage Against the Machine, per l'energia e la rabbia che viene espressa attraverso i testi da grandi contenuti, perché il nostro amico Zacchino affrontava i temi politici veramente in maniera proprio forte. Zaccaria. Sì, proprio forte, proprio se fossi qua ti avrebbe incazzotto un faccia. Tutti i denti. Esatto. E diciamo, questa sua maniera è anche abbastanza diretta, perché lei praticamente se ne frega di tutto, io voglio di una cosa e lei dico, quindi chi è che mi sta bene? Incazzotto. Proprio, quindi voi che già ascoltate, prendete assolutamente esempio. Si fa così, si affronta così la vita. Un'altra caratteristica importante dei testi è la continua e quasi ossessiva ripetizione di parole e frasi che accentano questa cazzutissima rabbia. Beh, è vero. Tipo un coso di magia, tipo ripeti sempre... Aparca, taparca, taparca, taparca. Loro invece ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. Quindi oggi lo diamo in Rage Against the Machine anche per i loro grandi numeri a livello di registrazione. infatti quest'album è il primo è il primo esempio delle loro assurde capacità a livello appunto di registrazione qua lo diamo il nostro amico zio Tom che sin da subito mi se ne mani avanti dice riconoscetemi perché io sono la chitarra come pochi sanno fa quindi calmamose infatti la sua più grande caratteristica è quella di utilizzare delle tecniche che qua veramente puntifata a cascata a pioggia è appunto tecniche anche molto particolari per manipolare il suono della chitarra creando questi effetti molto particolari che rendono difficile distinguere se sia appunto una chitarra oppure un sintetizzatore infatti all'interno dell'album che adesso Simone ci aprirà e ci farà vedere sul retro della custodia non c'è abbastanza mani immaginatevelo all'interno dell'album sulla custodia che protegge il nostro amato vinile è inserita una frase che sottolinea appunto che non sono stati utilizzati né sintetizzatori né tastiere eccetera ma è che tutto hashtag no filter quindi adesso però veniamo alla parte succulenta e parleremo della copertina in particolare ce lo parlerà il nostro qua carinissimo il fatatino Simone io non parlerò della copertina brutta ipocrita della fotografia ma parlerò della fotografia all'interno della copertina perché oggi siamo proprio al nocciolo delle questioni proprio al succo al succo del succo alla creme della creme e infatti parliamo di questa fotografia perché oggi per la prima volta nella decennale secolare millenaria storia di questo meraviglioso programma parliamo per la prima volta di una copertina fotografica perché abbiamo sempre parlato di copertini con illustrazioni disegnini, cazzi e mazzi e invece no oggi una fotografia una fotografia molto celebre che ovviamente i Rage Against the Machine scelsero per la storia che c'era dietro perché cos'è questa fotografia? questa fotografia è una fotografia è uno scatto realizzato dal fotografo americano Malcolm Brown all'epoca corrispondente del di un coso che non so cosa sia che si chiama Associated Press che si chiama Associated Press credi che sia un'associazione è un'intervista perché lo dico io allora un'intervista e questa fotografia ritrae l'autoimmolazione del monaco buddista Tikwanduk che ovviamente non si pronuncia così ma noi lo pronunceremo così è un'altra come è parte dei nomi impronunciabili nomi impronunciabili parte 2300 quindi l'immagine è molto famosa tanto che questo fotografo grazie a questa fotografia vinse numerosi premi come un premio Pulitzer un wordpress photo e venne letto anche come il miglior fotografo di quell'anno che era il 1963 30 anni prima quasi quando si dice essere al momento giusto al posto giusto non so cosa appena detto ma ci piace così si chiama anche botta di culo volendo però vabbè il soggetto della foto quindi come abbiamo già detto è questo monaco buddista Tikwanduk che si diede fuoco in pubblico per protestare contro le discriminazioni e le violenze che venivano riservate ai buddhisti e in generale a tutti quelli che non erano cattolici durante il governo filoamericano del Vietnam del Sud perché stai ridendo Leonora? non sono così brutto buddhisti e cattolici? no vabbè vabbè uguale io rido sempre il 10 giugno i rappresentanti della comunità buddista di Saigon che è una regione credo del Vietnam avvisarono la stampa è una città ovviamente lo sapevo ma io volevo vedere se eravate attenti 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 avvisarono avvisarono la stampa americana oggi le doppie me piacciono avvisarono la stampa americana che il giorno dopo sarebbe successo qualcosa di magico e molto importante ad un incrocio di strade impronunciabili quindi neanche ci provavano il caro Malcolm fu uno dei pochi che prese sul serio questa notizia e andò sul posto ed effettivamente il giorno dopo qualcosa successe qualcosa di abbastanza grosso direi perché circa 350 monaci e monache buddisti sfilarono per questa strada affiancati da un auto blu e ad un certo punto il nostro caro Tiquanduk si sedette su un cuscino e iniziò a meditare e raggiunto il livello massimo di meditazione quasi che fluttuava un suo amichetto lo cosparse di benzina e lui si diede fuoco appunto per protestare contro queste violenze che erano riservate ai suoi amichetti buddisti e per appunto richiedere in un certo senso l'uguaglianza religiosa e in tutto questo caos il nostro amico Malcolm ebbe il tatto di fotografare questo tizio che bruciava e moriva in quel momento che grande uomo sensibile comunque però fatto sta che questa foto anche se ci si possono fare dietro delle polemiche perché in effetti fotografare la persona che sta morendo non è il massimo però è stata sicuramente molto importante dal punto di vista storico perché infatti Kennedy ritrasse il suo sostegno grazie a Lenora al governo vietnamita non ci interessa come si chiama questo signore tutta questa vicenda ovviamente fece andare in brodo di giugio i rage against the machine perché ovviamente uno che muore davanti a loro e loro ci scialano ovviamente perché come abbiamo capito erano un gruppo fortemente politico e parlavano molto di queste cose dell'uguaglianza del governo del potere e quindi la presero e la usarono come copertina del loro album che ovviamente fu una scelta molto di impatto perché si trattava per la prima volta di inserire in una copertina la morte nella sua forma più realistica perché molti potrebbero dire eh ma l'hanno già fatto i Pink Floyd con Wish We Were Rear nel 75 visto che ma io la pronuncio la pronuncio a questa raga ma chi me la dà ma non c'è non apprezzate la mia bravura in queste cose guarda quanta gente c'è più strada che ti ascolta comunque come abbiamo detto alcuni potrebbero dire che era già stato fatto da i Pink Floyd con questa un canzone questo album scusa è un album è una scusa non lo dico più ma noi vi diciamo che in realtà in nel caso di Pink Floyd è stata una cosa artistica preparata senza che nessuno morisse veramente mentre in questo caso la fotografia era una fotografia di reportage quindi era del tutto realistica e quindi era molto più strong e ai Rage piaceva molto di più ovviamente ma passo la parola a Giacomo che ci parla della Cuba bene allora nell'artwork dell'album la fotografia viene ingrandita come si può vedere diciamo divisa in due parti perché nel fronte abbiamo il particolare del monaco nel quale risaltano le fiamme che occupano la parte principale della cover mentre il volto dell'uomo si trova in basso a sinistra sul retro invece vediamo il resto della fotografia la macchina la folla e la tannica di benzina la fotografia non viene utilizzata in bianco e nero come nell'originale ma viene aggiunto una sorta di filtro se così lo vogliamo chiamare che rimanda toni blu e verde mentre per quanto riguarda l'interno dell'album sua custodia che protegge il vinile compare da un lato il particolare super ingrandito della tannica di benzina che fa sfondo che fa come sfondo ai testi delle canzoni mentre nell'altro lato abbiamo una foto della band mentre in azione sul palco tra i vari riconoscimenti emerge la scritta di cui vi abbiamo parlato all'inizio dove viene specificato che non vengono utilizzati altri supporti per la registrazione dell'album di fuori dalla chitarra io ero qua a chiedere a Simone con la sua meravigliosa pronuncia di leggercela vero? che cosa? aspetta la scritta vai illuminaci con la sua meravigliosa pronuncia in inglese ok ma è illegibile sta cosa allora è esattamente questa è veramente questa comunque adesso veniamo alle cose serie purtroppo il tempo è finito però noi adesso vogliamo parlare di cose veramente importanti di quello che i nostri cari amici Rage ci hanno dato premetto che voi che ci ascoltate che ci guardate che fate non so qualsiasi cosa in questo momento andate su qualsiasi piattaforma esistente al mondo e ascoltate questo album perché se non l'avete fatto io adesso vengo a casa vostra e vi faccio del male perché mio amico Zacca mi ha insegnato a menare e leggere le persone quando non fanno le cose che io voglio quindi adesso vi vengo a menare quindi chiusa questa parentesi noi praticamente questo programma con questo programma volevamo trasmettere qualcosa di veramente nostro compito molto nobile che è quello di distruire e diffondere dei saggi messaggi di pace in tutto il mondo e oggi noi ci poniamo un'altra domanda esistenziale che cosa abbiamo imparato in questa puntata dai nostri cari amici Rage Against the Machine che praticamente se c'è qualcosa che non ci piace noi dobbiamo semplicemente fare questo insultarlo e prenderlo a botte finché praticamente non sputa i denti mentre urliamo in grol esattamente proprio cattivi fino alla fine vi ringrazio per i vostri timpani che ora sono rotti esatto però con questa perla noi purtroppo dobbiamo chiudere questo episodio quindi adesso parte la la televendita social allora se volete consigliarci qualsiasi tipo di argomento di cui parlare o se volete semplicemente dirci quanto siamo belli e bravi e favolosi potete farlo sulla nostra pagina instagram che si chiama dt spazietto no d come si chiama underscore d underscore t underscore jam poi tanto penso che ci saremmo solo noi al mondo non mi importa in questo modo avete la fantastica opportunità che solo pochi hanno di diventare protagonisti del nostro glitteratissimo podcast vorrei dire quale un'ora anche la regina d'inghilterra vorrebbe farne parte quindi seguitici sulla nostra pagina instagram dove dato che siamo super famosi nel linky bio abbiamo il collegamento alla nostra IGTV e a Spreaker a Spreaker e poi dopo ci abbiamo adesso in segno spotify youtube e itunes podcast l'ho imparato tutti e quindi ci potete ascoltare in una qualità super mega meravigliosa però non ci potete vedere fare le nostre cazzatine meravigliose per quello dovete andare su youtube o su facebook oppure potete andare questa pubblicità per l'istituto sulla pagina dell'istituto italiano del design sulla pagina della radio design cioè noi siamo proprio veramente conquistati la radio normale ci fa un baffo abbiamo conquistato l'intero mondo abbiamo conquistato il mondo sociale come dei palazzi tipo i docchi le piatto le hanno fatte non proprio quindi da qua da radio design e dall'istituto di design è tutto vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 5 con un buon tè oggi in bicchiere di plastica perché il nostro amico Nicola non ci ha portato il bollitore e le tazze capito? io ho tazza molto in tema con le festività attuali ma buon Natale è Natale a casa mia tra regali in Italia ok quindi basta vi diamo appuntamento all'unedì prossimo con una nuova spaziale puntata di DT Jam baci stellari ciao 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 ciao